Salve, buonasera a tutti, eccomi qua dopo un po' di tempo, ho avuto un po' di cose da fare, per quello mi riuscivo a caricare i video, a fare i video, ci siamo lasciati un po' di tempo fa con dei video, parlavamo di tante cose, adesso, come detto, iniziamo a fare un po' la preparazione del matrimonio e tutto il resto, non ho mai abbandonato il pensiero del canale, di fare i video e di tornare a parlare con voi, di tante cose. Niente, che non abbiamo adesso, non cominciare in un nostro giro di video, parliamo un po' del mio matrimonio, ho fatto, si me ne frega, ma dove si tratta, è il matrimonio, è stato abbastanza carino, così dicono ma, ma è piaciuto, si può subito, abbiamo fatto la nostra crociera, sono una crociera del mediterraneo, quindi carablanca caduce di spagna non parto di portogallo abbiamo visto tante belle cose da un'ottima parte della gente è un'esperienza nuova perché la congela non aveva mai fatto nessuna vita poche niente c'è un'esperienza nuova anche per uscire ovunque un po il trasloco perché come vedete un po l'arredamento un po i lavori un po dopo matrimonio le stelle finali il popolo piccolo paese ho lasciato un po il mondo qui sono tornato e questo è uno dei primi video che ho a questa bellissima nuova casa tornerò con voi per pagare un cappellino perché stasera un po con il mio cappellino da birro il tuo cappellino della moglie che è natura non messi così vabbè ragazzi cliccate nel piatto se avete scritto questo è il mio corso di ritorno a youtube lasciate un po di like e ci vediamo per il prossimo video ciao ciao